Tre giorni di visite gratuite, guidate, offerte ai visitatori che decideranno di scoprire la casa Museo Ivan Bruschi. Famiglie, giovani e turisti potranno, seguiti dal racconto degli addetti museali dedicati, appassionarsi alla collezione del noto antiquario ma anche ammirare le mostre, le banconote della Shoah, storie di denaro nei campi di concentramento e la sottilità dell'aria a Rezzo e il suo territorio negli archivi alinari. Quest'ultima prorogata fino a fine ottobre alla luce del successo di pubblico riscosso. Da sabato 29 a lunedì 1 maggio, giornata di apertura straordinaria del museo, parte del patrimonio culturale di Intesa San Paolo. La partenza dei tour guidati si terrà alle 16 e si concentreranno negli oggetti più inediti e capaci di stimolare curiosità intorno all'arte e all'antiquariato con il regalo delle divertenti carte didattiche per i giovani visitatori. In occasione di foto antiquaria che si terrà il 30 aprile in Piazza Grande, la Fondazione Bruschi invita gli appassionati di fotografia a godere degli ambienti della Casa Museo, degli oggetti di Casa Bruschi e degli scorci sul centro storico. Le migliori foto verranno postate sul profilo Instagram della Casa Museo con un tag all'autore per portare a Rezzo il collezionismo e l'antiquariato in giro per l'Italia. La Casa Museo Ivan Bruschi è aperta dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18 con visite guidate gratuite e comprese nel biglietto d'ingresso al museo.